Buonasera, ben ritrovati con il nostro TG Oggi, un altro decesso sulle strade della nostra regione. È accaduto la scorsa notte in provincia di Piacenza, vicino a San Polo di Podenzano. La vittima purtroppo è un 44enne, Davide Zucchi, che era la guida di una Mercedes, se stava percorrendo la provinciale per San Giorgio Piacentino, quando all'improvviso ne ha perso il controllo. La vettura ha sbandato sulla destra, è uscita di strada, è finita la sua corsa contro una terra piena, dopo aver percorso oltre un centinaio di metri in un canale. Inutile tutti i soccorsi. E a scadenza di mandato la garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruna, ha stilato il bilancio della situazione delle carceri in regione, una situazione che ha mostrato segnali davvero preoccupanti. Servizi? Per quanto riguarda la situazione carceraria nella regione Emilia-Romagna, ci sono segni di preoccupazione perché il numero dei detenuti purtroppo sta salendo. Siamo arrivati ad una percentuale del 117%, ci sono rispetto all'anno scorso circa 300 detenuti in più, quindi questo non è un segnale positivo, nonostante le molte riforme che in questo periodo sono state emanate nel tentativo di contenere il numero dei detenuti. Il numero degli stranieri è ancora molto elevato nella nostra regione, oltre il 40%, contro un dato nazionale invece che si aggira intorno al 30%. La popolazione è pressoché interamente maschile, il dato femminile è ancora sul 4-5%. Per quanto riguarda invece le misure alternative, al carcere abbiamo un incremento significativo anche con l'introduzione della messa alla prova. È tornato a casa dopo un viaggio di 7 anni in barca, con la sua altrove in giro per il mondo in solitaria, dopo essere guarito dalla leucemia grazie ad un trapianto e dopo aver ricevuto il nulla osta dai medici. E' Michele Piancastelli, cinquantenne, ha raccontato la sua grande esperienza in un incontro a Ravenna con Lyle, una bella testimonianza di come dalla malattia si possa guarire, si possa anche assaporare la vita fino in fondo, lasciandosi rapire dalla leggelezza e dalla libertà. Il servizio. Diciamo che il viaggio che ho intrapreso, questo giro del mondo, è stato comunque la parte finale di un viaggio avvenuto nel 2004, nel marzo del 2004, quando mi è stata riscontrata una leucemia e lì è entrato così questo percorso duro, impervio, ma alla fine sono riuscito a venirne fuori e a coronare questo sogno, questo mio grande sogno di navigare. Lyle è un'associazione grandissima dove comunque è importantissima proprio per l'aiuto a quelle persone che in certi momenti della propria vita soffrono e è veramente un apporto morale, fisico e è veramente molto importante per coloro che in questo momento stanno soffrendo. Sapevo che era un percorso molto più duro con un tunnel della malattia, però non ho mai pensato, mai mi è venuto in mente che non ne potessi uscire vincitore, mai. Curare la leucemia si può anche se abbiamo ancora grossi problemi. Con le leucemie acute ancora oggi non si scherza, a parte alcuni sottotipi che sono caratterizzati da un'ottima prognosi, nella maggior parte dei casi ancora no. Quindi il nostro Michele è stato bravo lui, bravi medici che l'hanno curato, quindi non mi rogo nessun merito perché il merito è soprattutto del fatto che abbia fatto il trapianto di midollo a Bologna allogenico e ha superato brillantemente una prova molto molto difficile con anche un po' di fortuna e diciamo di rimbalzo a questa avventura che ha passato purtroppo nei letti degli ospedali ha intrapreso un'avventura in giro per il mondo che l'ha portato a questo risultato. È stata una malattia di leucemia, è un ottimo testimonial per noi. Dobbiamo dire che oggi l'ematologia ha fatto dei progressi eccezionali in tanti campi, meno nelle leucemie acute che in altri campi come l'infomia e mieloma dove oggi gran parte delle persone sono guarite e se non sono guarite hanno comunque davanti a sé molti anni di buona qualità di vita con piccola malattia in attesa sempre di avere farmaci nuovi perché ogni, credo, ogni mese escono nuovi farmaci con nuove indicazioni quindi più si va avanti più c'è la possibilità di essere curati bene. La CIA di Ravenna invece ha presentato i dati degli andamenti e delle tendenze previsionali dell'annata agricola 2016 tra luce ed ombre che provengono dai vari comparti con uno sguardo alla situazione americana e a quella che sarà la sua evoluzione con l'arrivo alla presidenza di Donald Trump. Servizio. Un bilancio sommario è che la frutticoltura e il vitivinicolo danno un po' di speranza nel senso che complessivamente sono andati abbastanza bene c'è però da dire che la crisi della zootecnia del cerealicolo è veramente pesante e su questo si riscontra anche il fatto che comunque i prezzi all'origine dei prodotti al di là di quello che noi paghiamo al supermercato quando andiamo a fare la spesa anche se i prezzi ci sembrano alti i prezzi riconosciuti ai produttori non coprono per tantissime colture neanche i costi di produzione nonostante molti prezzi delle materie prime siano in ribasso. Mi conferma Presidente che l'agricoltura è notevolmente cambiata vuoi un po' i tempi vuoi anche i tempi che sono anche stati sottolineati in America dall'elezione di Mr. Trump. Noi avevamo la nostra assemblea nazionale due giorni fa il ministro Poletti ha detto Trump ha raccolto i voti soprattutto degli agricoltori e degli artigiani ma l'Italia ha un'altra agricoltura verissimo l'Italia ha un'altra agricoltura ma attenzione perché questa percezione di questa burocrazia di questi controlli che a volte sono fatti anche con un po' di arroganza con delle normative che comunque ci sono sempre sanzioni più pesanti tutte queste cose qui sono percepite dai produttori come un continuo versazione verso chi lavora e dall'altra parte continuiamo a subire i furti nelle case nei capannoni, i trattori e lì le stesse istituzioni sono un po' meno utente si percepisce una criminalizzazione di chi lavora e una legittimazione della microcriminalità che non so poi perché chiamarla ancora così e queste cose qui si percepiscono si è tenuta ieri a Sogliano alla Rubicone la prima delle tre domeniche della 42esima edizione della Fiera del Formaggio di Fossa e il sindaco in persona ad annunciarci come tradizione l'apertura ufficiale delle fosse il 25 di novembre giorno di Santa Caterina come la tradizione vuole servizio il 25 di novembre Santa Caterina è il giorno tradizionale di apertura delle fosse noi apriremo il giorno di Santa Caterina la fossa, l'ultima fossa che ci farà vedere proprio il procedimento molto assolutamente tradizionale che si tramanda da secoli di apertura delle fosse che permette di verificare e di assaporare il profumo anche perché i profumi, i sapori e i colori tutte le caratteristiche di Sogliano alla Rubicone sono veramente uniche Con la salvezza già archiviata il CT Massa Lombarda ha cercato contro il Crema nell'ultima gara del girone di qualificazione del massimo campionato nazionale a squadre maschile la clamorosa qualificazione alle semifinali è arrivata invece una sconfitta per 4-2 che manda il Crema ai play-off ma per la squadra dei CT Montalbini è comunque festa l'obiettivo della permanenza in A1 è stato centrato sentiamo il presidente Fulvio Campomori Noi siamo contentissimi del risultato ottenuto l'avremmo sicuramente sottoscritto all'inizio del campionato è chiaro che al punto in cui eravamo arrivati ci rimane un po' di amare in bocca abbiamo visto sfumare infatti in extremis una semifinale che poteva essere veramente un'impresa storica per noi che eravamo al primo anno di campionato di A1 tra l'altro abbiamo perso di stretta misura avevamo due risultati utili su tre è saltato fuori purtroppo il terzo risultato diciamo che ieri hanno girato male o mancato un pizzico di fortuna non so cosa dire per gli incontri di Napolitano e Travaglia entrambi persi al terzo set vabbè peccato ci abbiamo provato anche nei doppi a recuperare di portare a casa il pareggio inserendo anche Ocleppo che comunque avevamo piacere che rientrassi in squadra visto l'infortunio da cui veniva però sicuramente le condizioni non erano al meglio è comunque una sconfitta che non cambia il bilancio che come dico è positivo e anzi devo ringraziare la squadra, i ragazzi il capitano stesso Michele Montalbini per l'impegno che hanno portato avanti in queste settimane noi tra l'altro già ieri con i ragazzi alla conclusione dell'incontro ci siamo salutati ci siamo diciamo dati appuntamento per il 2017 dove con anche i cambi regolamentari che sono previsti dove dovranno quindi giocare due giocatori del Livaio riteniamo di avere una squadra fortemente competitiva quindi ci riproveremo il prossimo anno speriamo bene insomma e ora il meteo per domani flussi meridionali mantengono cielo nuvoloso coperto sul settore occidentale della nostra regione con associate precipitazioni deboli moderate cielo irregolarmente nuvoloso con nebbie e foschie sul resto del territorio temperature sopra la media climatologica del periodo con valori minimi intorno a 10 gradi e massimi oscillanti fra 12 e 18 gradi i venti saranno quasi assenti sulle pianure interne deboli dai quadranti meridionali sul resto del territorio il mare sarà poco mosso a largo quasi calmo sotto costa anche per questa sera e tutti il nostro telegiornale regionale si conclude qui vi ricordo che dopo il nostro consueto approfondimento giornaliero con l'oltrena notizia quest'oggi dedicato proprio all'annata agraria 2016 di CIA provinciale di Ravenna vi proporremo alcuni consigli medici con il sostegno di esperti professionisti del settore per sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche della salute e sul modo migliore per curarsi al meglio e bene oggi è la volta del dottor Carlo Daniele specialista in urologia vi auguro una buona serata domani se lo vorrete sempre alle ore 20 su Nuova Rete con il nostro TG Oggi grazie a tutti